Proseguono le manifestazioni legate al giorno della memoria. Un gruppo di 90 studenti dalla Navarra parteciperà ad una manifestazione in programma a Palermo promossa dal Chivanis e dal Rotary Club, durante la quale l'avvocato Roberto Falvo parlerà delle leggi razziali. Questa manifestazione tende a commemorare, a ricordare, il giorno importante che è il 27 gennaio, il giorno in cui le armate russe liberarono il campo di Auschwitz. In particolare, per quanto riguarda la mia conferenza, quello che io dirò, parleremo delle leggi razziali del 1938 che furono l'elemento base sul quale si basò in Italia la persecuzione degli ebrei prima del loro internamento. Quindi diciamo che Mussolini si è fatto condizionare moltissimo da Hitler e ha scritto una delle pagine più buia della storia d'Italia. Infatti è così, come dice lei. Mussolini inizialmente non era assolutamente razzista, tanto che ebbe una relazione, come ben si sa, con una donna ebrea, Margherita Sarfatti, che durò tantissimi anni e non era assolutamente, lo divenne dopo, e in particolare nel 1938 con il discorso a Tieste, in un suo comizio a Tieste, nel quale praticamente illustrò le maggiori leggi che doveva fare i decreti, in sostanza contro gli ebrei. Comunque ci sono stati migliaia di italiani che hanno aiutato gli ebrei nel cercare di sfuggire alla criminalità sanguinaria dei razzisti. Sì, ci sono state migliaia di italiani che hanno rischiato la vita perché si rischiava in realtà la fucilazione, si rischiava l'internamento, così come ci furono altri italiani, per la verità non molti, che furono dei delatori, in particolare si ricorda per esempio un episodio terribile, quello del figlio di Ovazza, che fu potestà di Ferrara e che sostanzialmente era ebreo. Questo ragazzo fu assassinato perché colui che lo doveva portare in Svizzera ricevette 2000 lire dell'epoca per fare il delatore. Quanto è importante la memoria, ma soprattutto far conoscere alle giovani generazioni quanto è successo sperando che non si possa ripetere più? È fondamentale. Ricordare, ricordare significa tenere sempre viva la memoria. Conoscere, i giovani devono assolutamente conoscere quello che è successo per evitare che si ripeta. Vede, il razzismo non è finito, è più vivo che mai e allora bisogna combattere questa tendenza che è determinata da una profonda ignoranza sulla storia, sulla conoscenza e sull'essere umani.